Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra audienza del processo dell'Utri che si è tenuta a Palermo il 7 luglio del 2003. In aula ascolterete la testimonianza del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. Buon ascolto. Contorno, ora risponderà le domande del pubblico ministero. Prego, dottore Cosa. Posso rimanere nel Statuto? Certo. Lei, innanzitutto, buongiorno signor Contorno, sono il dottore Cosa. Buongiorno. Sì, buongiorno. Le volevo chiedere, innanzitutto, lei ha parlato di Vittorio Mangano, velocemente. Ha detto che era uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, giusto? Di Pippo Calò. Sì. Ricorda chi le presentò Vittorio Mangano? Era sempre dei miei cugini. I miei cugini avevano una proprietà di Sant'Apria di Gesù. E allora era sempre da Stefano Pontate e nei miei cugini. Dopo la presentazione, signor dottore, io non le ricordo più che mi ha presentato. Non posso ricordare tutte queste cose già del passato. Non ci sono più volamenti. Vi confermo quello che ho dichiarato. Lei ricorda, lei ha detto poco fa, ha parlato di Cavalli, se non ricordo male. Ricorda se Mangano fosse appassionato di Cavalli? Sì, era un partito di Cavalli, come lui, come anche mio cugino Antonino. Andavano all'Ippica, dove si fanno le sommesse che il Cavallo pureva di va. Senta, lei sa se il suo cugino, chiedo scusa, se il Mangano frequentasse l'ippodromo di Milano e anche quello di Palermo? Di Milano sono sicuro che ci andavano insieme con il mio cugino. Di Palermo non ce l'ho soddisfa. Senta, lei sa se Mangano fosse, per così dire, in affari, per quanto riguarda la droga, con i suoi cugini Grato? Sì, sì, era, sì, sì, socio. Comprava, vendeva pure insieme. E in che periodo siamo? Ma già valiamo al livello 78, 79, 77. Erano compari con mio cugino Nino e Antonino, e ad Antonino era compari Vittorio Mangano. Senta, lei ha parlato anche di Pullerà, specificamente, ne ha parlato in relazione a un gruppetto, un gruppo di persone con cui aveva parlato del senatore Belluto. Ma di quale Pullerà lei sta parlando o ce lo può dire? Io parlavo di Ignazio e di Giovanni. Giovanni è quello che è morto e Ignazio è quello che doveva essere in carcere. Quello che aveva amicidio Grato. E quindi per comprendere che rapporti vi erano tra i Grato e i Pullerà? Il signore Pullerà sono stati fatti, sono venuti dal suo paese e portati dal padre di Brusca quando erano giovani. Sono venuti a abitare la sua mia, la della Grazia, e dopo sono stati fatti un onore nella nostra famiglia, perciò eravamo nella stessa famiglia. Perciò immaginerà lei il stesso cosa potevano avere nella stessa famiglia e rapporti. Ho capito. Senta, lei nella sua famiglia aveva, vi erano delle persone che avevano il suo stesso cognome? Nella mia famiglia, no? Giuseppe Contorno? Nella mia famiglia parla di miei fratelli? No, 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 intendevo dire famiglia mafiosa. Ah, di mafiosa, c'era mio padre mafiosa. Lei conosce un certo Giuseppe Contorno? Sì, è uno della guadagna che adesso si è sposato con una della famiglia mafiosa del Viala Lazio, per il momento non mi viene il nome, sì, lo conosco signore, lo conosco. Si è sposato? Perché io ho sentito si è sposato. Sì, sì, si è sposato, prima lavorava con i Pullarà a Milano in una cosa di vino, era stato imputato per un sequestro, Montalera e quella di Torino, e dopo si è presa una del Viala Lazio, per il momento non mi viene la famiglia del Viala Lazio, che è morto, il vecchio è morto, verissimo, mafioso. Va bene, per il momento non mi viene il nome. Come veniva chiamato questo Contorno, se la ricorda, com'è? Gio Pippo, Giuseppe. Senta, questo Giuseppe Contorno di cui abbiamo parlato adesso, se ne risulta, frequentava, ha frequentato Milano in questo periodo di cui lei ha fatto? Stava a Milano, stava a Milano, stava a Milano, ed era una cosa di, c'era via, un grosso 22 marzo, un attraverso di grosso 22 marzo, c'era un deposito di rigore all'ingosso, ci lavorava, lo zio di Pullarà, e lavorava pure Pippo Contorno là, dopo in grosso 22 marzo c'era un barretto, c'era soggiornato salvatore a brucia montagna, pensi di Filippo, che abitava in grosso 22 marzo, abitava pure là, e tante altre persone, i nipoti dei pezzi di Filippo. Senta, questo Contorno di cui sta parlando, io non ho capito se fosse o meno un uomo d'onore. Sì, è un uomo d'onore della nostra famiglia. Per la famiglia, quindi, di? Santa Maria di Gesù. Santa Maria di Gesù. Senta, lei poco fa ha detto che aveva acquisito una parentela, se ho capito bene, importante, all'interno di Cosa Nostra stiamo parlando. Sì. Lei sa quindi di chi fosse cognato questo Contorno, se lo ricordo? Sì, solo perché il cognato aveva prima una frutta e verdura in Viale Lazio, però questo lo faceva, dove Mimmo Terese e Giovanni Bontà, ha preso pure una moglie, il stesso nome che ha preso questo per Puccio Contorno, però non mi viene il nome per adesso, la famiglia di Viale Lazio, non mi viene per il momento, è una ricca patriarca di famiglia. Era cognato di Pina Albanese, era pure imparizzato di questa famiglia. Se lei mi permette, lei faccio questa contestazione. Il 15 marzo del 94, alla Procura di Palermo, lei ha detto, pagina 2, ha lavorato per il Teatro Massimo di Palermo, è cognato di Giovanni Citarda, che è stato compare di Giovanni Bontà, la famiglia Citarda, quindi per comprendere qualcuno della sua famiglia, lui aveva sposato una Citarda, lei sa chi erano, ricordo almeno quali altre persone fossero sposate con alcune sorelle, sorelle Citarda. C'era Mimmo Terese, Giovanni Bontate, Pino Albanese, non ricordo altri. Tutti questi eliminati, mi sono nominati. Sì. 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 Senta che lei ricordi, lei ha detto appunto che questo contorno, questo Giuseppe Contorno, frequentava Milano nello stesso periodo in cui vi era anche lei. Sì. Sì. E ricorda se ebbe dei problemi questo contorno in relazione ad alcuni sequestri? Sì, il sequestro Montalera. Cioè che è successo? Gli hanno trovato, ha sequestrato una bottiglia di champagne importata dai Pollara su Milano, rigore champagne che è stato. E lui questo contorno? Dopo... Che rapporto aveva? Eh... Come? Cioè come potevano collegare questo contorno con questa bottiglia? Non lo capisco. Perché lui lavorava in quella rivendita di rigore dove c'era il Pollara, Ignazio e lo zio e questa bottiglia ce l'hanno trovato, siccome le importazioni la faiavano solo loro per Milano, avevano l'exclusività di questa champagne e ce l'hanno trovato a quello sequestrato, cioè non so come l'hanno fatto. Senza, lei ricorda di avere commesso dei creati anche insieme a questo contorno? Abbiamo fatto del cogio a bando e questo si muoveva pure con la gioca, perché c'è amico di Giovanni e Bontà, si muoveva pure di gioca. Di omicidi non li abbiamo fatti insieme. Abbiamo fatto delle sigarette, come ha detto che lui ha perso i documenti, mentre la finanza ci inseguiva e dopo lui ha fatto la denuncia e ha perso i documenti. Questo contorno verso i documenti? Sì, sì. Ma poi lo hanno arrestato per quanto riguarda questo reato? Dopo, nel gioco mi trovo a Re Bibbia, mi è arrivato dalla lettera della sua famiglia, mi è arrivato ammesso all'indirizzo proprio dove abitavano in Viale Lazio. Era a piano sopra dove mi trovo io. Quindi lui era tra i detenuti comuni, diciamo lei era tra i collaboratori o anche lei tra i detenuti comuni? Sì, tra i collaboratori, sì. E quindi per errore la lettera è arrivata a lei? La lettera ho letta dopo l'ho visto e ce l'ho ridata alla gente che non aveva riportato. Senta, in relazione proprio a questo fatto dell'avere perso un documento, Lei ricorda altri episodi avvenuti per altri uomini d'onore, altri soggetti diciamo legati a Cosa Nostra in cui erano stati persi dei documenti in relazione proprio alla commissione di alcuni reati? Vabbè, il documento è stato preso Venendo quando ha fatto il sequestro, ha tentato un sequestro sul Milano, lui e c'era Mangano, c'era il suo cugino Pippo Salda, Venengo Giuseppe, c'era Lino Venengo, il mio cugino Nino, il mio cugino Nino. Lei diceva che c'era Pippo, mi devo scusare che ho capito tutti i nomi tranne Pippo, il secondo nome, il cognome non l'ho capito. Pippo Salda ha detto di sovrannome, Venengo. Quindi diciamo, queste persone c'erano, lei che cosa intende dire? Che presero parte a questa... Hanno preso parte a questo sequestro, dopo c'era la nebbia, hanno incidentato cose, quella è strappata e quella fatta pieno di documenti, di Venengo, Pietro. Pietro Venengo. Quindi c'era anche Pietro Venengo tra questi che fecero? Sì, sì. C'era proprio il varimento di documenti e poi risulta che aveva fatto una denuncia del varimento. Senta, ma lei come fa a sapere queste cose? A me del mio cugino Nino, che era Antonio. E che cosa le disse il suo cugino che era Antonio? Avevano provato il suo sequestro, Vittorio Mangano era Basante, stiamo vedendo il suo sequestro. E' andata male. E' ha pagato solo Venengo con un po' di anni. Lei ha detto quindi, se ho capito bene, le ha detto Basante. Cioè, era la base, Mangano. Quello che... È base. L'Idencio sarebbe l'ultimo... Come? Era... vi dava l'Idencio, vedeva tutte le gente che andava da Bellosconi, no? Dal proprietario? E perché... cioè, chi era l'oggetto di questa... Chi voleva no? Non ce lo so dire. Non ce lo so dire. Era uno che andava a mangiare di là e lo dovevano pigliare a... Lei venne detto qualche altra cosa in relazione a quella serata? Per esempio, con Mangano ne ha mai parlato di questa cosa? Ma con Mangano era pure di casa. Io a Mangano ci ho venduto pure un... Un GT-1003 bianco, ai tempi di GT dell'Alfa Romeo. Avevo un GT-1003 e l'avevo venduto a lui. Parlo a 73, 74 chissà, 75. Si confessava, dopo gli è finita bene, male gli è andata male da una parte, quello ha perso i documenti gli è andato bene, ai fini ci è andato tutti bene. Non sono andata a finire in galera. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. A seguito, le ha già chiesto l'Avvocato, se lei era il difensore del senatore Dell'Utri, se lei avesse avuto recentemente dei problemi giudiziari con arresto anche. E io le faccio una domanda specifica. A seguito, diciamo, di questi problemi giudiziari è anche del REVO, del programma di protezione. Lei ha arresto delle nuove dichiarazioni? Mi sembra che già in parte ne ha parlato, ha detto tutto al procuratore Grasso, però se lei ce lo può specificare... Sì, quando si è chiuso i verbali, quando è chiuso i verbali, dottore Grasso, alla chiusura dei verbali, se non dopo non si potrà più dichiarare. Senta, lei ricorda in particolare se lei è stato sentito, è stato esaminato nel corso D'Antonio? Sì, non lo ricordo. Mi sembra di no. Non ricordo, signor Pupro Ministero. Lei ricorda comunque di avere arresto delle dichiarazioni su D'Antonio? Sì. Sì, ha detto certo, no? Sì. Sento, se l'ho dichiarato ci sarà, non le ricordo, signor Pupro Ministero, non le ricordo più niente. Va bene, allora a questo punto, Presidente, proprio su questo punto, pagina 65 di una trascrizione che abbiamo depositato la difesa del verbale del 22 gennaio 2000 del processo 521-99 a carico di D'Antonio Ignazio. E' il PM, dottore Di Matteo. No, ma faccia la domanda. Non legga. Faccia la domanda. No, è un bucato, un attimo soltanto. Faccia la domanda. La domanda qual è? Signor Contorno, se aveva arresto delle dichiarazioni su... E l'ha detto. Dottore D'Antonio? Ha detto di no, quindi... Non ricordo, ha detto di no, non ricordo. Ha detto di no, ha detto che non ricordare. No, no. E allora, signor Contorno, quando lei ha parlato nel corso della sua lunga collaborazione per la prima volta di queste sue conoscenze sul dottor D'Antonio, sul dottor Contrada e sulla corruzione di queste funzioni di polizia, e l'ha detto. Ma io, in particolare, fino ad oggi... No, scusi, Presidente, ritorno ancora una volta. Sto collaborando, dicendo tatti che non avrei detto anche di omicini. Perciò si figura lei. In questo dottor Contorno, l'ho rivelato da poco tempo. Non lo può fare da poco tempo. Perché non sono voluto entrare. Se consente, faccia terminare e poi farà la sua opposizione. Nel momento in cui... Avvocato, per la sua tranquillità, non ho nessuna intenzione di arrivare ai nomi che lei tanto teme. Va bene, andiamo avanti. Assolutamente. Io volevo realizzare proprio qua. Ma io... Volevo realizzare di sollecitare la memoria... Per favore... Per favore, vogliamo riprendere, se no con la giustizia non si capirà. Allora, lei rileggo di nuovo il punto. Il PM di Matteo lo chiede. Signor Contorno, quando lei ha parlato nel corso della sua lunga collaborazione per la prima volta di queste sue conoscenze sul dottore D'Antonio, sul dottore Contrada e sulla corruzione di questi funzionari di polizia, ma io a questo particolare, fino ad oggi, sto collaborando. Dicendo fatti che non avrei detto anche di omicidi. Perciò si figura lei di questo fatto mio, l'ho rivelato da poco tempo. Ricordo di aver reso queste dichiarazioni, signor Contrada. E se ci sono l'accelerata di davanti, me le fa ricordare, signor Proprio Ministro. Però non ricordo... No, no, io non le voglio chiedere il contenuto delle sue dichiarazioni sul dottore D'Antonio, che non ha aggetto di questo precedimento. Le voglio chiedere se ci sono delle altre dichiarazioni che lei non ha reso nel periodo precedente, diciamo così, alla sua carcerazione. Sì, ma non ricordo, signor Proprio Ministro. In particolare le chiedo se lei aveva da rendere delle dichiarazioni relativamente, le chiedo, uso il termine che è scritto qua, il fattore Berlusconi di Milano e Andreotti. Io non ho mai parlato di bello suonaggio oggi. Lei aveva da rendere delle dichiarazioni su queste persone, questa è un'altra cosa. Cosa avevo? Aveva da rendere delle dichiarazioni... Come? La rendite? No, 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 signor Proprio Ministro. E allora, sempre lo stesso verbale, pagina 65, in proseguizione a quello che le ho contestato poco fa. E allora, rilego all'inizio, ma io questa particolare, fino ad oggi, sto collaborando dicendo fatti che non avrei detto, anche di omicidi, perciò si figura lei di questo fatto mio, l'ho rivelato da poco tempo, perché non sono voluto entrare sia del fattore Berlusconi di Milano, non sono voluto entrare sia del dottore Andreotti, perché io, conoscendo le personalità, non mi sono voluto mettere in mezzo, perché a quest'ora avrei fatto la morte di Sindona. Ricordati di aver reso queste dichiarazioni. Ricordo che l'ho detto là e mi fermo là, signor Proprio Ministro. Confermo quello che ho detto e mi fermo là a non parlarmi. Ma è questo il motivo? Capirà. Ma alla vita me la guardo io con la mia famiglia, non me la guarda nessuno. Sono abbandonato in mezzo di una stata. E ancora mi cercate di mettermi in mezzo di processo. che si basa, sono stanco, basa. Grazie a tutti. Scusi un attimo Presidente, fa un momento. Senta, lei ha conosciuto Paolino Abbontate? Sì, l'ho conosciuto. L'ho conosciuto, mi ha proprio messo. Ci può dire chi fosse? Paolino Abbontate era il capo che comandava prima della grazia, era un personaggio anziano. Molto calbato perché credeva a Cosa Nostra che avevano del bene. L'ho conosciuto sia quando avevano la tenuta che macinavano l'olive, c'era un zappeto, l'ho conosciuto la famiglia Abbontate. Dopo l'ho conosciuto quando era ricoverato in Australia, era il padre di Stefano Abbontate e di Giovanni Abbontate. Era un grande pagiarche. Quindi lei ha detto, comandava lui dove però ci dovrebbe dire? A Villa Grazia. A Villa Grazia, sempre. Villa Grazia d'intorno. Senta, che lei ricordi, diciamo, dove vi riunivate? Cioè, lei partecipava a riunioni a Palermo insieme a Bontate. Ma che periodo parla lei, signor Proviso? Che periodo parla lei? Eh, questo me lo dico a lei. Stiamo parlando comunque degli anni di Stato. Mi ha parlato lei dei pari di bontà. No, no, parliamo di periodo eccessivo. Stiamo parlando di Stefano. Perché io non ero un buonore in quei tempi. Sì. Ci torniamo in una tenuta che dovevessero fare un Bontate, a fondo Maiotto, Maiotto, un paio Bontate. E qualche acciopocio l'aio d'intorno. Senta, lei ricorda dove abitavano in Motarese? In Motarese abitava in Viale Lazio, vicino a Dottore Polpi. Vicino a Dottore? Lo raccomandava Palermo. Dottore Polpi, lo raccomandava Palermo. Senta, lei quando c'erano queste riunioni a quelle che ha partecipato, eravate tutti uomini d'onore o vi erano anche persone, per così dire, esterne? Ah, c'eravamo uomini d'onore e non uomini d'onore. Però quando si parlava di cose di causa nostra, alcune volte ci vedevamo pure da Michele Greco, a fondo Favarella da Michele Greco o qualche acciopocio. Però quando c'erano cose da parlare e i uomini d'onore assistivano non a tutti i fatti. Perché se erano cose, c'erano i grossi grossi, siamo i capi, si mettevano da sole dopo, se c'erano cose da fare ci dicevano. O se no, se c'erano cose più lecite, quelle che un momento non le potremmo sentire. Cose lecite, diciamo, più bassi. Senta, in queste occasioni lei ha mai incontrato dei giornalisti? Se lo sapeva che erano presenti? Il giornalista c'era, il giornale Sicilia. Il microfono, prima che parli, opposizione. Ecco, perché non riusciamo a capire quale sia la rilevanza di queste domande in relazione al processo che stiamo qui svolgendo. Possiamo chiedere al proprio ministero. Presidente, lo dico, però non so se è il caso, perché praticamente, chiaramente, la domanda successiva era legata a un altro imputato di questo precedente. Va bene. Ah, se il senso è quello della scorsa udienza, o meglio, di un giornalista che abbiamo sentito qui, è quello? Va bene. Allora può procedere, Luistero. Sì, lei stava dicendo che sì, c'era un giornalista del giornale Sicilia, l'ho sentito, mentre l'avvocato ciò conera. Ricorda il nome di questo giornalista? Eh, questo è il problema, ricordare il nome. Non ricordo, nel momento non ricordo il nome. Però era uno che lavorava nella Sicilia, ci portava le notizie di quello che succedeva, non dicono che a nera, cosa, famimmo, Terese. Ci portavano le notizie di quello che succedeva, quello che volevano elencare. E c'è stato il fatto di quello che hanno ucciso, quei giornalisti che hanno uscito tempo fa. Però non ricordo il concreto dei discorsi. Si chiamava? Pippo, Pippo. Pippo Montaperto, signor Proprio Ministro. Pippo Montaperto. Pippo Montaperto. Si chiamava Montaperto. Si chiamava Montaperto, signor Pippo Montaperto. Senta, lei ha detto che a queste riunioni tra le altre persone partecipava anche Pinuzzo Albanese, se ho capito bene. Eventualmente mi correggia. Pinuzzo Albanese. Non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non arriva la voce. Vado piano. Lei ricorda se a queste riunioni partecipava anche Pinuzzo Albanese, di cui lei ha parlato poco fa? Presidente, qualche volta succedeva che veniva... Contorno Aspetti. Presidente, chiaramente la rilevanza delle domande non è l'unico limite di continenza dell'SS. C'è anche un problema di relazione con l'oggetto per cui è stato citato il soggetto che sta deponendo. E quello? Che noi abbiamo citato esclusivamente a confusazione di un'assersione del Cangeli Salvatore. Possiamo capire che certe dichiarazioni vadano oltre per la verifica dell'attendibilità, ma qua stiamo introducendo un tema del tutto nuovo, su cui il pubblico ministero non ha mai chiesto di svolgere l'esame. Quindi siccome è solo dal contesto che noi invece abbiamo chiesto di sottoporre al signor Contorno, per questo la difesa si oppone. Sì, la domanda? Vuoi ripetere la domanda? Sì, io volevo sapere se lei, se Pinuzzo Albanese partecipava a questa riunione. Pinuzzo Albanese veniva per sei volte da Stefano Puntà e parlava con Stefano, però in riunione di quello che parlavano fa di loro non ci so dire niente di cosa parlavano. Va bene. Senta, lei ricorda di quale famiglia faceva parte Pinuzzo Albanese? Di Cittaglia, via la Lazio. Con i Cittarda? Sì. E ricorda altri soggetti che facevano parte di questa famiglia? Mi ricordo però il nome, come faccio a me la pigliare, signor Puntà e Ministro. C'era un certo... Penuzzo, un certo Penuzzo Napoli, questo aveva letto auto in via Terra Sante. Questo è morto, è deceduto. Dopo c'era un fratello. I Cittardi c'era il cognato di Peppuccio Contorno. Mi accorgi di un proprio mistero? Sì, il cognato sarebbe... Quel Giovanni Cittardo di cui parlavamo poco fa? Sì, quello che aveva la frutta e perdura nella travesta del via della Lazio, che io ci andavo pure. vicino dove c'era un locale notturno, sulla sinistra, scendendo una via della Lazio verso al centro. C'era un locale notturno che scendeva, c'era una scala che scendeva così. Di fronte c'era un grande locale di frutta e verdura. Senta lei... Senta di... Sì, prego. Dici di nome, non me ne vengo per il momento, sono più confuso che persuaso, signor Popolo Ministro. In che senso? Nel senso che lei conosceva altri uomini da noi e non se ne ricorda? Si ricorda di nome di persone, cose. Sono... sono male dentro perché... Di come sono male io... Va bene, Presidente, io non ho altre domande, proseguo il collega. Solo due domande. Sì, ho... Lei ha detto prima che Vittorio Mangano, Vernengo ed altri uomini d'onore da lei conosciuti e che frequentavano Milano, le avevano parlato del dottore Marcello Dell'Utri. Queste persone, quanto le dissero, conoscevano personalmente il dottore Dell'Utri? Ma quello che lo conosceva, il Dell'Utri, era il Vittorio Mangano. Il Vittorio Mangano che abitava, mi dico, questa fattoria di cavalli da Bellustone. Lei ricorda ulteriori particolari delle cose che le vennero dette da Vittorio Mangano e dagli altri? Dopo, c'era un certo Cinà in mezzo, un Gaetano Cinà, puro modo onore del Via Lazio, Gaetano Cinà, che era bene vicino a questo. Era bene vicino a chi? A questo Dell'Utri. E che le dissero ulteriori... Vicino a Dell'Utri e vicino a Vittorio Mangano, no? Le dissero ulteriori particolari, qualche episodio? No, no, di particolare non siamo scesi in particolare. Senta, per concludere una domanda che le ha già fatto il mio collega, in relazione a quelle sue dichiarazioni che lei ha reso al dottore Di Matteo, nel corso del dibattimento d'Antone, per quello che lei ricorda. Lei dichiarò in quella circostanza di avere cose da riferire su personaggi importanti che avendo paura lei non si c'era voluto mettere in mezzo. Senta, ma gli è stato chiesto. La domanda specifica su un punto riassuntivo, riepilogativo, se chiedo se il testa in quella circostanza disse di avere delle cose da riferire che non aveva voluto riferire per l'importanza delle personalità. Presidente, c'è opposizione, primo perché è stato chiesto, secondo perché comunque è stato chiesto, secondo perché comunque la domanda nuova c'è la sincerità della risposta, non lo che tende a suggerirla, posto che è stato letto la contestazione da cui tre... No, 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 che non è in controesame. In controesame si possono porre domande che suggeriscono le risposte. Le domande che nuocchiano la sincerità della risposta non le può porre nessuno. Lei parla suggestiva? No, 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 sono contento di aver convinto l'avvocato. Ma questo di fare è una domanda, questo di fare è una domanda riferita a dichiarazioni che ha già reso il testo. Vabbè, lo conosciamo il codice avvocato, non c'è bisogno che lei ciò lo ricorda. E allora siccome già ha letto il perono della contestazione, comunque nuota la sincerità della risposta. Comunque la domanda è se lei ricorda di avere detto in quel processo all'udienza del 21 gennaio 2000 di avere cose da riferire su personaggi importanti che avendo paura aveva preferito non vendere queste dichiarazioni. Confermo, signor Pubblico Ministero. Confermo e mi fermo sempre nel suo profumo. Nessun'altra domanda, Presidente? Signor Pubblico Ministero, volevo precisare che c'è l'occasione di questa corte. Io mi hanno fatto una proposta di programma da tre anni. Non ho nessun esito. Ho cercato qualche magistrato di poter incontrare. Non è stato fatale. Non so cosa potrei fare per poter incontrare uno di voi. Se ne occuperà il Pubblico Ministero, la propria Repubblica di Palermo. Grazie, signor Presidente. Un attimo, Avvocato Tricoli. C'è un ordine? Avvocato Tricoli, per favore. C'è la parte civile? Prego, vado tutti in aglia. Un attimo, Presidente. Soltanto un paio di domande. Signor Totorno, ma lei sa come che il signor Mangano era diventato un uomo di fiducia di Marcello Dell'Utri? Senta, in particolare come ci è diventato non lo ricordo più, però c'è stato tramite Stefano Bontate, insieme a questo Cina a farlo incontrare in questa azienda. Non ricordo più particolare, però vagamente sono questi stati. La Stefano Bontate, questo Cina, ci hanno trovato questo posto per lavorare. E lei queste cose come le ha sapute? Come le ho sapute? Essendo in mezzo alla chiesa della mia famiglia, Stefano Bontate è il capo mio. Vittorio Mangano eravamo amici, con il padre di mio cugino eravamo sempre insieme. Quando si parte da Palermo, arriva a Milano e va a trovare una villa con una tenuta e se ne va all'Ireggio a lavorare. Non è che di tutti i giorni trovare una occasione del genere. Per raccomandazione, andrà a fine del Vittorio. Senta, lei poco fa ha detto di essere stato molto vicino a Bontate, lo ha confermato anche ora. Lei ricorda se Bontate si recava spesso a Milano? A Bontate non andava solo a Milano. A Bontate, pure quando era soggiornato, andava tutte le parti dove si sembrava che non c'erano controlli, perciò ne chiedeva una novità a Milano, qualche città, andava tutte le parti Bontate. Come facevo io da soggiornato. Ho capito, e per quale motivo si recava a Milano Bontate? Che lei sappia. In un'unica, mi dovrei dire qualcosa di... Prego, io quello che... Aspetti sempre... Aspetti un attimo il controllo. Esiste oppure no un limite stabilito dal tipo di capitolato che la difesa rivolge per chiedere l'esame? Perché altrimenti ci limitiamo semplicemente a chiedere la prossima volta sul capo di imputazione e la terminiamo lì. Noi invece l'abbiamo voluto circoscrivere proprio perché fosse specifico come la legge prescrive. Riteniamo che il controesame, quale è quello che sta svolgendo la parte civile, debba essere quindi nello stretto devoluto di quanto ammesso dall'ambito. Se c'è una domanda di riferimento a quei rati che sono stati posti anche dalla difesa? Può rispondere se è controllo? Perché andava a Milano, quando lui viaggiava, mi diceva che andava a Milano, si vedevano tra un momento nove, si incontravano, ci eravamo, sapeva i motivi perché andava, non lo so perché andava, girava. Senta, lei sa se Bontade aveva il problema di investire capitali di cui disponeva? Presidente, no no, siamo un po' fuori dal tema. Presidente, mi scusi, io voglio chiarirlo il senso della mia domanda, che non si tratta di un mero così prurito. Rispondendo all'insede di esame, il signor Contorno ha fatto riferimento alla sua vicinanza con Bontade. Ora, io voglio sapere se l'esame ci deve scorrere sopra come dell'acqua o seppure dobbiamo in qualche modo interloquire, perché io voglio un poco capire qual è il senso di questa vicinanza. E se nel contesto di questa vicinanza il signor Contorno può riferire delle circostanze che in un modo o nell'altro possono anche essere Contorno ha precisato già il motivo per cui era vicino a Stiamo Bontade, è il capo della sua famiglia. Perché era vicino? Ma doveva mantenersi anche al tema per il quale il suo Contorno è stato citato. Va bene, Presidente, allora, non ne ha messa la domanda, Presidente? No. Lei che ha conosciuto il signor Di Carlo? Il signor Di Carlo, sì. Uomo d'onore che comandava Altofonte una volta, dopo è passato al fratello, adesso è un collaboratore come me. Senta, lei ha avuto mai modo di parlare? Sa se il signor Di Carlo si è recato qualche volta a Milano? Senta, non lo ricordo, se lo vedevo pure a Milano non lo ricordo. Io gli posso dire una cosa, Franco Di Carlo, nella domanda che lei mi sta facendo, ha fatto un omicidio con me e non se l'ha voluto accollare, dicendo che non c'era, che ciò non ci sa dire altro. Senta, lei ricorda che rapporti c'erano fra Di Carlo e Bontade? Buonissimi, buonissimi, rapporti setti. E fra Di Carlo... Confinanti con la nostra periferia. E fra Di Carlo e Teresi? Prego? Non ho capito. Fra Di Carlo e Teresi, che rapporti c'erano? Buona, buona, che Teresi è sotto il capo della nostra famiglia. Buoni rapporti, buonissimi. Senta, un'ultima domanda. Lei ha mai conosciuto un certo Filippo Alberto Rapisarda? Non mi è nuovo, ma non mi dice niente per il momento, è avvocato. Filippo Rapisarda. Per il momento non mi dice niente. Un'ultima domanda. Avevo già detto così? Vabbè, allora, è la prima ultima. Senta, lei ricorda se durante la sua latitanza a Milano vi erano altri latitanti? Pesce per Nenco era latitante. Senta, ma dove si... Qualcun altro... E poi? Non c'era un controllo, perciò diceva bene a Milano, oppure come latitanza. Non mi ricordo altri, signor avvocato. No, e lei sa dove trovavano in genere sistemazione, rifugio, ricovero? Sì, c'era il suocero di Venengo, c'erano delle case in affitto così, di queste parti, si dormiva, la mattina si usciva e tutto andava avanti. Va bene, Presidente, non ho altre domande, grazie. Va bene. Avvocato... Sì, Presidente. Prego. Grazie. Signor Contorno, lei prima di oggi ha parlato mai di Gaetano Cina? Nei processi, negli interrogatori che ha reso? Se non erro, signor avvocato. Non si è sentita la risposta? Mi sembra di sì, signor avvocato. Mi sembra sì, sì. E le dichiarazioni io non lo ricordo tutto, ma se le riguarda gentilmente poi ne ho parlato di questo Cina. Si ricorda in che occasione? Non l'ho capito, signor avvocato. Si ricorda in che occasione? Sento, ha avuto diversi interrogatori, perciò non lo ricordo in che occasione. No, siccome a noi non risulta, volevamo che leggesse qualche notizia su questo punto. Ne ha parlato ad esempio quando ha descritto l'organigramma delle famiglie mafiose del Palermitano e in particolare quando ha parlato dei componenti della famiglia di Pire Lazio, Malaspina. Nel maxiprocesso. Senta, avvocato, qua non ricevo bene, se ci domandavo ripeto la domanda, è che arriva confusa qua la sua... Sì, volevo sapere se lei ne avesse parlato quando ha parlato degli organigrammi mafiosi e le famiglie padermitane, quando ha parlato nel maxiprocesso. Avvocato, non ce lo so dire se ne ha parlato in quei periodi? Perché a noi non risulta appunto, gli atti del maxiprocesso sono depositati. Allora, allora non ne ha parlato. Non ne ha parlato. Ne ha parlato in quest'ultimo verbale di chiusura che ha fatto con il procuratore Grasso? Lei si immaginerà la chiusura di quante cose ho potuto parlare? Non lo so se c'era pure lui, perché dopo uno ha tante cose da dire e magari si confonde in qualche cosa a dimenticarlo. Non lo so se nella chiusura c'era, avvocato. Siccome lei collabora nel 1984, io volevo capire com'è che dall'84 ne ne parla soltanto oggi. Soltanto questa era la finalità delle mie domande. Adesso ha capitato l'occasione di parlare di Mangano, la conoscenza è... Perché questa è la prima occasione che le parla di Mangano. No, la prima occasione di Mangano? No, io... Se da allora parlare non ce n'avevo, è avvocato. Io ho una vita che ne parlo di Mangano. Appunto. Una vita di Mangano. E neanche nelle altre occasioni in cui ha parlato di Mangano ha parlato di Gaetano al finale. Così come non mi risulta che ne abbia parlato quando ha parlato di Giuseppe Di Napoli. Abbiamo il verbale depositato dal pubblico ministero agli atti di questo processo. Senti, il verbale senta. Vi posso confermare una cosa. Quando è stato che io ho venuto a Palermo, ho messo a collaborare in via Terra Santa. Sono andato al negozio a fermarmi lì davanti, a fare la proiezione, a far riconoscere l'individuo di Stefano Napoli, il nostro Napoli, il letto auto della Via della Santa, vicino alla chiesa, di fronte c'era un cinema. Ci siamo fermati un giorno là per dirci alla persona chi era. Perciò non credo che questi verbali non ci sono. Dopo, avvocato... Sì, 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 ma i verbali su di Napoli ci sono. Il punto è che questi verbali su di Napoli, che contengono notizie anche sugli uomini d'onore, la famiglia di Manaspino, di Via Relazio, che a dir si voglia non contengono alcuna notizia su Gaetano-Cinà. Avvocato, se non ci sono, non lo legiamo. Va bene. Senta, e quindi lei ne ha sentito parlare dove? A Milano di Gaetano-Cinà? Sì, ma sia a Milano, sia pure in mezzo a noi, no? Diciamo di Giovanni Bontà, Mimmo Terese, perché era in zona, loro sempre si passavano, si incontravano, avevano una cosa di mattonelli vicino Via Relazio. Chi è che aveva una casa di mattonelli? Ma c'era Mimmo Terese con Giovanni, avevano aperto una cosa di mattonelli vicino Via Relazio. Lei sa questo Gaetano-Cinà che attività svolgesse? No, 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 non ricordo, signor Avvocato. Non lo sa, non ha notizie specifiche su di lui. No, Papa, non ricordo più niente, Avvocato. Ah, non ricorda più niente? Sì, Avvocato. È sicuro che si chiami Gaetano-Cinà? Senta, io ricordo Gaetano-Cinà, dopo non lo so, Avvocato. Era un amore d'onore, mi ricordo, però la rimanenza. Il nome proprio è proprio Gaetano, a prescindere dal cognome. Dicevano Tanino, non Gaetano. Per me Gaetano e Tanino mi sembrano... Io c'ho un fuggino che si chiama Gaetano, però lo chiamiamo Tanino. Dovrebbe essere uguale. E ne ha sentito parlare da chi? Da Stefano Bontale? Non ricordo più l'Avvocato. Ah, non ricorda nemmeno chi gliene ha parlato. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Allora, Avvocato, Avvocato, Vincoli, tende a concludere l'esame? Sì. Prego. Una sola domanda. Prego. Signor Contorno, vuole indicare l'epoca della sua affiliazione alla famiglia di Santa Maria di Gesù? In che anno è stato affiliato? Io sono stato affiliato al 75, però già al 70, al 69, convivevamo insieme con loro, con questi mafiosi, che ero ragazzino, ragazzetto, vedevo, stavo. Dopo mi dicevano in modo di fare, sono stato affiliato al 75, perché prima di essere affiliato mi hanno fatto fare delle cose. Dopo sono stato socio con Giovanni Bontale, un magazzino all'indosso di carne, e vendevamo 100 vitella la settimana tutto Palermo. Perciò dopo sono entrato più in fase e mi hanno combinato. Al 75, Avvocato. Quindi lei è stato combinato nel 75. Allora la mia domanda successiva è questa. Mangano è stato combinato prima o dopo di lei? Ma Mangano già era... Nei mesi che ne vedeci nel 74-75 Mangano. Avvocato. Perché lei ha dichiarato, in data 7 marzo 1994, sempre nel più volte richiamato interrogatorio presso... della dottoressa Boccassini, lei, la medesima domanda ha risposto, io sono stato combinato come la sa nel 75, e Mangano, se non ricordo male, dopo di me. Confermo questa circostanza. Avvocato, se è così che sta leggendo è così, non è un problema. Sì, Avvocato. Confermo quello che sta dicendo. Perfetto, grazie. Se sta leggendo, dichiarato, non la posso ricordare quando avevano combinato, non combinavano tante persone, io c'ho la gentina in legno. Ma non ti rendo conto. Ma... Io ho un'autorità che forse lei non apprezza, ma io lo posso apprezzare. Prego. Sì, grazie. Senta, signor Contorno, lei ha parlato di Di Carlo Francesco. Le risulta se sia mai stato posato? Scusi, non ho capito la domanda, Avvocato. Le risulta se Di Carlo Francesco sia mai stato posato? Sì, c'è stato un periodo che è stato posato perché si è rubato tutti i soldi dei poveretti. Come lui, come Mazzino Padaro. Sì, si è rubato tutti i soldi. Sì, è stato posato. E si è entrato il fratello... E in piano è stato posato? L'hanno in stato posato, che cosa ricordo? Ma dopo essere stato posato proseguirono i suoi rapporti con bontate? È stato allontanato, no? È rinunciato il suo fratello. È stato allontanato, però ogni tanto sempre... Perché quando una persona viene posato e c'è una caratura, viene ucciso. Invece a questo gli hanno dato la buona, l'hanno posato e l'hanno allontanato. Comunque si era rubato soldi di poveretti, le ha detto, che significa? Sì, c'erano soldi di contrabbando, facevano tutto quello che ci pareva, allora avevano tutti così in mano, no? E il finanziamento l'aveva in mano, e il ciofaiolo come gli pareva. Si comportava male, non dava... Non è che parlava di fare una cosa... E si conversava, parlava con gli altri. Partì ve le faceva. Io per il caso suo, di Franco di Gallo, dovevo fare due omicidi. Uno ci sono riuscito a farlo, perché l'abbiamo trovato. Il secondo l'hanno fatto gli altri. Però lui, quando è venuto a procissare, ha detto che non era vero. Gli fratelli di stromparsi di alto fonte. Uno l'hanno assassinato, e uno l'abbiamo fatto stromparire. Quello che abbiamo fatto stromparire ce l'ho pure io e Franco di Gallo, e il padre di Brutta, quando l'abbiamo soldato. Invece il secondo l'hanno assassinato. Lui l'ha negato, diceva che non era vero, perciò si figura lei. Ma mi scusi, l'ha negato mentre era già collaborante? Eh, non l'ha mai... Quello non se l'ha mai accettato. Quindi neanche adesso... Non aveva detto che lui era partecipato a questo omicidio. Neanche ora che collabora con la giustizia. Non lo so se questo l'ha aggiornato adesso, ma è quando sono andato a fare un confronto a Palermo, con Franco di Gallo, dice che io ricordavo male, lui non c'era. Però questi due omicidi erano incaricati da parte sua, erano di alto fonte. Questo confronto... Questo confronto quando fu? Ma l'ho fatto... Se non era, c'era il dottore... Abbiamo il dottore Musso qui, il pubblico ministero? No. Eh, il pubblico ministero... Scusate, uno... Il pubblico ministero parlava come si chiamava? Ah, è il dottore Cozzo. Il dottore Cozzo? c'era il dottore Cozzo in questo confronto. Eh, non possiamo chiederne l'esame, quindi... Se riusciamo ad arrivarci in altro modo... Rispetto al suo arresto del 1997, è stato poco prima, poco dopo. No, già che c'è già... Ma, diciamo, il confronto dice lei, Avvocato? Sì, sì, sì. Avvocato, no? Non ce lo so dire più, Avvocato. Ma comunque, questo confronto... Avvocato, non lo ricordo, quando è stato... Questo confronto è stato con Di Carlo Francesco e Di Carlo Francesco già era collaborante? Sì, sì, collaborante. Non a questo interessa. E in questo confronto Di Carlo ha negato la partecipazione a questo omicidio. Ha detto che risultavo male che lui non c'era. Ho capito. E io gli ho detto le modalità, dove è successo e quando è arrivato lui e il padre di Bruzza. C'era Bernardo Bruzza e lui quando sono arrivato. E noi già la persona erano in un cantiere di Giovanni Bontà alla Guadagna, a Villa Grazia. Va bene, senta una cosa, i rapporti con Stefano Bontà e con Mimmo Teresi, che lei ha detto essere stretti, rimassero stretti fino alla loro morte? No, no, la cosa si è allentata perché dopo comandava il fratello di Franco Di Calla non c'è tanto. Se l'ha contato non mi perdoni, c'è stato un equivoco. Chiedo se i suoi rapporti con Bontà e con Teresi rimassero stretti fino alla morte. Lei fu fedele a loro fino alla morte? Fino alla morte perché l'ho voluto cambiare. Ho avuto un attentato all'81 mi hanno sparato come voi tutti sapete all'81 dopo la morte di Bontà mi hanno cercato di farmi fuori a Puzzella e Lucchese di farmi fuori via Miro già fra Palermo nella regione siciliana. Ma hanno tentato di farmi fuori perché non ho voluto cambiare bandiere fino alla morte. Senza una cosa lei ha pure parlato di un sequestro di persone a Milano in cui durante il quale Pietro Vernengo perse la carta d'identità non ho capito bene la carta d'identità non ricordo un documento comunque perso ci siamo ma fu arrestato per questo Pietro Vernengo oppure riuscì in qualche modo a giustificare il fatto? Pietro Vernengo ha preso una condanna di una paia di anni 5-6 anni 4 anni ha preso perché si ha fatto si è tentato a sequestro Ah quindi allora non è che riuscì a giustificare il fatto che vi fosse il documento? No lui solo ha pagato tutti gli altri no lui solo perché lui non è stato accantato ha pagato solo lui E lei di questo sequestro da chi seppe? C'era mio cugino Nino un grado che ha partecipato c'era Vettore Magna che era in Basante c'era Pietro Vernengo c'era suo cugino Pippo Sardi ha detto Vernengo pure e Nino Vernengo il fratello Ma erano tutti a Milano perché? Non ho altre domande Prima che il tribunale ponga alcune domande al suo contorno sospendiamo i 5 minuti quindi per la processione esterna sospendiamo solo 5 minuti poi il tribunale porrà qualche domanda al suo contorno quindi non si allontani Va bene Prefetto Grazie Sì prego occupiamo questo spazio Mi riferivo a una richiesta che abbiamo fatto noi esattamente all'udienza il 5 novembre del 99 che avevo fatto riferimento alla sua studienza ho verificato e ho trovato l'ordinanza che è quella del 14 luglio 2000 nell'ambito della quale il tribunale ammette nella frattispecie lo leggo proprio per quanto riguarda poi la richiesta di trascrizione delle intercettazioni che deve il tribunale in questo caso occorre fare riferimento al disposto attivo 270 che espressamente dà la possibilità di utilizzare i risultati di intercettazioni seguiti in altri procedimenti e se vi è l'indispensabilità tale ultima condizione il tribunale ritiene dovete ravvisare nel caso in esame e quindi c'è scritto anche dispone perizia per la trascrizione di intercettazioni specificate al PM nella sua richiesta nomina il colonnello Sergio Bonafiglia del CIS di Messina quindi vi è questa precedente decisione del tribunale quindi noi chiediamo probabilmente c'è stato un quiproquo con il mio ufficio non sono state magari io non lo so ecco sto facendo delle ipotesi in questo caso non sono state depositate per il consulente le bobbine però chiediamo che venga data esecuzione ma credo che l'incarico non sia stato conferito ancora no c'è solo la nomina appunto non l'inconferimento l'incarico voi siete già in possesso delle audiocassette ritengo di sì Presidente certamente in ogni caso fa il rivestamento ci dovrete sapere domani allora bene Presidente sì signora la sento sì sì noi siamo pronti sì vedo l'avvocato anche va bene va bene va bene sì grazie allora c'è il contorno senta a conclusione del suo esame io sono il presidente del tribunale dobbiamo fare qualche domanda senta lei ha detto di avere frequentato Milano negli anni 71 72 73 dopo quella data dopo il 73 lei con quale frequenza si recava a Milano e se ci si recava cartellando signor Presidente così un salto un giorno due giorni me ne andavo sì e questo un giorno due giorni rientravo no capito perché lei era latitante all'epoca sì ecco e questo fino a quando signor Presidente dopo ho chiuso il processo sono stato libero dopo sono stato mandato a soggiorno obbligato a Venezia e da soggiorno obbligato andavo sempre a Milano e quindi a San Fio sono andato a soggiorno questo fino a che data andavo pure sempre a Milano sì ma fino a quale data che data signor Presidente fino a quale periodo andavo a Milano sì prego da di quando ero soggiornato nel Veneto fino a 79 dopo sono andato di nuovo abitante quindi lei dopo il 73 è andato a Milano sia pure di tanto in tanto sino a 79 sì va bene sì e lei ha detto anche quando era soggiornante nel Veneto ci andava più spesso meno spesso con quale frequenza sì si andavo sia a Paverno che sia a Milano non avevo difficoltà ho capito dopo infatti ho avuto una rottura e ho pagato mi hanno carcerato sì sì Presidente senta lei che attività svolgeva là in altri tanti nel Veneto niente quando ero a Palermo prima di andare della stagione avevamo un'attività di canna all'ingrosso in corso dei mille con Giovanni Bontai erano soci e un altro soci ho capito dopo sono andato in fallimento sì senta nel periodo in cui lei ha frequentato più asseduamente Milano cioè 71 73 lei è venuta a sapere se Mangano commetteva reati illeciti con le altre persone che stavano pure a Milano cioè con Irado con Ivernengo signor Presidente il fattore quando hanno fatto un'istruzione a Lodigiani sarebbe quello della parte dell'assale il Giovanni Bullaraga ha partecipato in questa istruzione ha portato 52 anni che stavano puntate e si immagina un po' lei e quindi in questi affari chiamiamoli così entrava anche il Mangano sì sì il Mangano all'epoca era già uomo d'onore Mangano no ancora non era uomo d'onore perché prima che diventa una persona uomo d'onore signor Presidente prima ci provavano pensare in questa comunità diciamo ho capito senta lei sa se in quel periodo per conoscenza diretta o per conoscenza indiretta se si parlava di sequestri di persona la Milano sequestri di persona signor Presidente io l'ho saputo quando il giorno che l'hanno fatto è andata male dopo le sorgenzate c'erano tutto il problema che avevano perso i documenti erano impauriti per Nengo no? sì al rinzo sì no no le chiedo soltanto se in quell'ambiente particolare cioè Mangano per Nengo e Grato e tutti gli altri si parlava di organizzare sequestri di persona quando hanno fatto questo ne avevano parlato nel caso che hanno avuto la brutta cosa si è saputo ah ho capito sì ho capito senta ma dai suoi cugini Grato da Vernengo ha saputo se vi era in progetto un sequestro del padre di l'onorevole Berlusconi anche se all'epoca non era onorevole ancora c'era una soffiata diciamo che si erano le chiacchiere però dopo quando ci hanno messo Vittorio Mangano lì dentro stava tranquillo c'era un cacchiere che significa c'erano chiacchiere diciamo che Berlusconi aveva paura di questo caso allora ci hanno messo Vittorio Mangano come protezione diciamo e questo lei da chi lo ha saputo lei questo da chi lo ha saputo questo l'ho saputo di mio di mio cugino e di Giovanni Bontà ai tempi Giovanni Bontà che era Nino sempre Antonino Nino Grado e poi dall'altra persona ha detto Giovanni Bontà c'era pure Giovanni Bontà sempre il fratello di Stefano c'era pure il mio materese pure il caso di mio materese non le chiedo Giovanni Bontà è il fratello di Stefano si si il fratello di Stefano cognato di mio materese si cognato di mio materese si cognato di l'albanese dunque senta lei proprio fa parlando di contorno Giuseppe inteso Pippo o Peppuccio ha fatto riferimento a Cina Gaetano e il riferimento a cosa è dovuto queste due persone erano parenti amici conoscenti no il Cina era nominato sempre quando era amico di Vittorio Mangano e abitava nella via Pizzee vicino via Lazio abitava in quella zona era amico di Vittorio Mangano ora quando Vittorio Mangano ha preso questo lavoro là non è che l'ha preso per mezzo dei Santi arrivato a minacciare un altro questo posto per raccomandazione di amicizia di famiglia l'hanno infilato là per convenienza personale e c'era questo Cina pure veniva a cucinare fuori di nuovo io non l'ho mai visto lei non l'ha mai conosciuto Cina Gaetano no non l'ho mai conosciuto senta lei sa se Vittorio Mangano a un certo punto è stato licenziato dalla villa di Arcore si dopo se n'è andato di là signor Presidente ma se n'è andato con l'ho messo fuori no no l'hanno messo fuori perché ma Vittorio Mangano c'è stato il fattore del sequestro già puzzava no e allora se n'è uscito di là dunque senta mi racconta può spiegare un po' meglio questa circolzanza cosa significa puzzava già puzzava in che sento aveva successo il tentato del sequestro lui già lavorava ancora lì dentro no e sento che dopo l'indagine si allarghavano e cose se n'è uscito perché voleva volare Pedro Bernengo e io che fermo che succedeva a Milano fra di loro era una cosa che già portava la stessa strada dell'indagine come basante cioè Mangano era sospettato di essere stato il basista di quel tentato sequestro è così? no il fattore non è stato mai imputato mentre era vivo del sequestro perché è andata bene Bernengo ha perso i documenti e non si è arrivato chi ha tentato quel suo sequestro no c'è una cosa le chiedo se fosse sospettato da parte dei proprietari della villa non lo so signor Presidente dunque senta quando le faccio una premessa prima di porle l'ultima domanda vi ho già detto che lei è sentito come testimone assistito quindi lei può fare dichiarazioni accusatorie nei confronti di altre persone ma se confessa in questo momento un omicidio omicidi omicidi qualunque tipo di leato lei non può essere perseguito né ora né poi né mai è chiaro quello che l'ho detto benissimo sì chiarissimo benissimo ora noi abbiamo delle risultanze istruttorie già acquisite in base alla quale lei avrebbe partecipato alla guida dell'autovettura a questo sequestro d'angerio sequestro che è andato male per causa di nebbia la macchina è andata a sbattere è vero questo fatto o no? mio Presidente io in questo sequestro non ci sono partecipato non ci sono andato lo saputo al ritorno che hanno fatto il sequestro siccome precedentemente c'era Salvatore Cangemi che diceva che io ero andato nella villa di Alcore ma non ci sono mai andato però in dichiarazione di Cangemi dice che si aveva detto Vittorio Mangano ma io non ci sono mai stato in questa villa e niente nel sequestro questa è la storia quindi lei non ha partecipato a questo sequestro no no non ci sono mai andato lei poi da che ha saputo lei da che ha saputo di questo sequestro signor Presidente prego signor Presidente mi scuse di quello che lei mi sta accennando se io ho fatto omicidio ho partecipato a che cosa meglio di adesso e poi se io mi potrei dire no non l'ho fatto non l'ho proprio fatto ma è una domanda che io la devo fare io la mi sta dicendo lei sarei proprio uno scemo dire che ho partecipato e non c'ero non l'ho partecipato poi da chi ha saputo di questo sequestro fallito subito dopo lo stesso quando è tornato mio cugino quando è tornato mio cugino lo rimane insieme a Quattere Zingone avevamo un appartamento là e lui veniva a dormire là e ci ha raccontato che hanno avuto i guai hanno avuto un incidente quindi lei in quel momento era a Milano si era a Milano lei già sapeva di questo sequestro no no non è lei che hanno fatto bandiera dovevano fare il sequestro gli è andato male lo saputo perché se lo fanno il sequestro se lo fanno il sequestro loro chiudevano e il tutto finiva là non capisco va bene va bene va bene da parte del tribunale non ci sono altre domande